Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui nel server vanilla di Minecraft Insieme a Morgan e Filippo che si è lasciato Quindi un minuto di silenzio per Filippo che si è lasciato Non facciamo un minuto di silenzio perché non c'ho voglia Comunque oggi che cos'è che andremo a fare? Oggi andremo ad esplorare chiaramente il nether Il fatto è che noi non abbiamo l'ossidiana Quindi dato che non abbiamo l'ossidiana dobbiamo andare boys E a raccogliere la prima, quindi ci tocca scendere da questo buco Dove abbiamo messo l'acqua, continuiamo a farmi controllare Ok si c'è l'acqua Venga, ho controllato io Non c'è l'acqua Arroganti godirà troppo Come cazzo che sto dicendo? Godirà troppo per questa cosa perché tipo sei giorni fa lui fa Oh ma facciamo un prank, mettiamo, facciamo finta che lì ci sia l'acqua e invece non c'è E ci siete cascati quindi godo come un riccio Vabbè mettiamo l'acqua vera e scendiamo Aspettate ora scendo per me e vi metto l'acqua raga C'è un'atoma di morga Comunque non so, ahia cazzo Non so dove io abbia lasciato la mia ascia Però vabbè non importa E so anche quasi per crepare quindi vi mangio la melador No, tanto non mi serve a niente Ah aspetta che devo attivare le shader vaffanculo Non le attivo più Regà bisogna trovare L'ossia morgan puoi tenere per fare le torce in mano Che non sembra un cavolo Sì siamo tipo negli scp praticamente Qui e sotto ci dovrebbe essere una cavernona Quindi in teoria qua dovremmo trovare l'ossidiana Cioè si spera Tra l'altro io in live mi sono dimenticato di dirlo Ho fatto tutta questa bella armaturina E questa spada piccone insomma Tutti vari enchant quindi vi ricordo di seguirmi nel sito viola Trovate il link in descrizione così che potete vedere tutte le live Che facciamo appunto sul server ma anche Non sul server ma altre cose insomma Qua è il fiume di lava Perfetto, prendiamo un po' di obsidian Tra l'altro mi sono dimenticato di prendere l'acqua Quindi non c'ho l'acqua Vabbè e in tutto prendiamoci Una decina di pezzi l'ossidiana Ma qualcosina di più va Che non si sa mai che poi ci servono in futuro Almeno ce ne abbiamo un po' Con questo piccone con efficiency si scava stra easy Quindi sto giocando tipo a 6 Voi quanto siete? 9, 1 Dammi Ok torniamo su Lens spawn Eccoci qui Allora a parte che noi abbiamo nemmeno una base per il momento Fatto sta che Costruiremo prima il portale della base Dove lo dobbiamo fare il portale? No, no No, no No, no No, no No, no, no Facciamo la base Quindi Ma sì al massimo si sposta Vabbè sì appunto Ehm Lo faccio interrato tipo Eh sì Ma sì va Ce l'abbiamo il flint and steal Flint sì Lo scherzo pure No ma dovrebbe essere già tra gli utensili comunque Vai vai ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ecco lo spinto Cioè guarda quanto vado veloce Da shiftato Eh io lo Ti sembra che sto tipo citando Vabbè allora ragazzi Entriamo nel portale Vai Carichi i ragazzi pronti a esplorare il portale Eccoci Siamo pure in questo bioma Che mi piace un casino Quindi perfetto Perché è rosso Esattamente Perché se lo stesse chiedendo Com'è che non sono andato nel nether Ma ho l'armatura in netherite Ragazzi l'ho comprata Da altri giocatori in live Quindi ecco Così come tutta la roba in netherite Ho questo enchant qui di soul speed Che si trova solo nel nether Io l'ho comprato Da altri giocatori Eh raccogliamo un po' di bond gioco Che almeno Possiamo fare il bond Va bene va Tanto non è che Stiamo cercando Ragazzi è una struttura Specifica O stiamo cercando No in realtà stiamo esplorando Un po' così Sì perché io ci ho 11 lingotti di netherite Che ho trovato nelle casse Nei bauli Ma raga ma ci stanno Tipo delle robe invisibili Avete visto Sì sono un nemico Che ti droppa Custom tipo sì Ti droppa delle cose un po' strane Ma questo è un bioma custom Eh sì la weeping Eh vedi È un bioma custom Vedete lì a destra È a sinistra Mi sa che sotto la facecam Incendio un weeping valley Ehi Giacomo qua c'è un bioma custom L'hai visto? No aspetta che salgo Perché non so C'è un dungeon Sì sì Mi vedi Allora aspetta un secondo No dove sei? Ah eccoti Ah è vero Fighissimo No è tipo un bastione Oddio ma che cazzo è sta roba È assurda No però ci stanno È pieno di questi cose Brutti Fortuna che ho la ramatura sgrava C'è anche molti magma cube Ne vengono un po' Per fare gli ascensori Quando avremo una base Alla nostra sinistra C'è un bioma di Quello grigio E uno verde Che non vedete cosa sia Un bioma tipo tossico Raga e attenzione qui Che è pieno di questi cose Ci sono pure dei blocchi d'oro Tra l'altro E nei bauli è pieno tipo di carbone Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Ehi No Vabbè io raccomando anche questa testa qua Diamanti Ah sì Raga c'ho la testa sostanzialmente Del porcellino qua Del nether Del piglin No l'hai trovata Sì Qua c'è dell'oro Non c'è niente Eh Guarda ma raga non arrivo Nel pressocorso Ma raga ma c'è tipo un piglin intrappola Cioè mi sa che qua I wither skeleton Hanno tipo intrappolato i piglin Sostanzialmente Usiamo gli scudi Perché li abbiamo Ah giusto Adesso mi ha metto anche io Della seconda mano Però ma ci sono C'è da l'ultore Per chi vuole No qui è pieno di oro Di blocchi d'oro proprio Tipo un laboratorio Sì Eh l'avevi visto È tipo una roba di esperimenti Credo Il nome dei Dei wither È scienziato Quindi Ah il mob si chiama così Sì si chiama Scienziato Guida Qua nessuno ha visto Le crossbook C'erano qua dentro Sono stroppi No le ho viste Però no Cioè che ci hanno di buono Perché ho visto che erano Molto distrutte Quindi non le ho neanche considerate Ma le ripariamo Al massimo Quella è in villa Rabbè io raga Ho tipo una stack E mezzo di oro Praticamente Qua avete preso Con i vari lipsticks Qua sul lato No 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 Non ho controllato Ferro Questo non dove sono Carbone Che raga C'è fatto una Carbone Non è malissimissimo Si prende Diciamo Tra l'altro lì C'è pure un bioma Praticamente tossico Quindi andiamo a vedere Un attimo lì Però dobbiamo passare Di qua Anche perché l'elitra Non ce l'abbiamo Chiaramente E poi vedete Ci sono proprio questi Mob invisibili Che attraversano pure I blocchi mi sa Sì sì Attraversano anche i blocchi Certamente Perché io ero Da dark del burro Ok Vediamo il suo bioma Vedi è radioattivo C'è scritto in alto Mi ha tipo dato L'advancement Radioactive Anche ma è radioattivo Non so Se si trovano Delle strutture Magari qui non ne ho idea Sì c'ho Da quello che mi chiamo Con i player Ci dovrebbe essere Tipo A centrale nucleare Veramente? Però Sì però è difficile Trovare Sì Questo è un po' Troppo piccolo Infatti vedi che l'alger Ma so che ci sono pure Tipo dei castelli enormi Nel Qua è il nether Giacomo Dimmi Per me c'è Di biomi La strana Dove stai? Eh qua di fanca Ti vedo Oh ma c'è tipo Dicito degli slime Che saltano un botto Tipo Eh ma qual è quella di prima O è un'altra? Gli slime Gli slime È un'altra No quella lì è un'altra Mi sa Sì sì è un'altra Quella è un'altra Sì sì è un'altra È un'altra È da passarti a qua Bisogna fare tipo un ponte Aia Oh Mi hanno intossicato Gli slime radioattivi Aia Tirano proprio poison Vedi infatti Si chiamano Withered scientist Come ha detto Morgan Rip Per la seconda volta Fammi prendere pure Quest'ora qua Mi vado un attimo Una scoperta qua sopra C'è da sopra? Oddio Ho trovato una caverna radioattiva No Piccola però è fila Vediamo Bello Sti slime sono proprio bastardo Sì Oh raga è tipo Oh finalmente Ho trovato il castello Ok Sì Vediamo che c'è Non l'ho mai visto il castello Chiaramente Quindi ecco scorruto nella lava Per fortuna che c'ho L'armaturona È gigante Sì sì è enorme Sto posto Oddio Giaco guarda quanto è profondo Raga è profondissimo Prima metterò da qua Sfondiamo Sfondalo tutto Ah siamo Sfondiamo direttamente Entriamo qua Attenzione che mi sa Che ci stanno i mob Quelli cattivissimi Allora ho trovato il disco Oh Oh ci sono i piccoli Così con l'armatura Raga Sì Li ho trovati Oddio Possono spaccare Possono spaccare anche i blocchi Cambiano arma È vero Prima ve lo lascia Guarda si drinkano pure le pozioni Si mangiano le mele d'oro Ma sta roba è sgrava C'è la cespa di nitrite C'è pure la TNT tipo No raga questo è più difficile No 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 Raga Mi ho lanciato la TNT Mi ho lanciato la TNT Aiuto Sto facendo esplodere tutto Questo è un matto Oddio Mi ha spinto nella lava Raga Ma che è Ma meno male che c'ho L'armatura buona Perché qui è un casino Ci crepo Per fortuna che c'ho anche Delle mele d'oro No raga No mamma mia Quanti sono Quanti ma ci sono degli spawner Perché non capisco Io ne ho quattro Sì io ne ho Che si rallentano Chiaramente Mi ha ammazzato uno Aia Aia Mamma mia raga Ma chi è Raga qua è pieno Di blocchi di ferro Mamma mia Oh guarda ho trovato pure I trim Un po' di nederite Blocchi di ferro ancora Buonissimi Sti blocchi Pia 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 Li metto dentro al bundle Io fai resistance Instant health E weakness Poi non posso Nel momento Vabbè Raga facciamo prima Fa il ponte C'ho pure Swift sneak Io quindi guarda Oro Qua c'è un po' Aspetta In squadra C'è un portale Mi sa perché sento Dove sai Eh qua sento Un rumore di un portale Eccolo Ho sentito bene infatti Sono sotto di voi Qua la scavazione Ma raga ma c'è un portale Già attivo Ma chi l'ha acceso Ah è di base così Ma aspetta Ma nell'overworld Ah ma è enorme Ma raga ma dove ci porta Secondo voi Eh dopo guardiamo Aspetta Proviamo a fine video A fine video ci proviamo E finiamo di spavare questo castello E poi proviamo ad andare Dentro il portale va Mi ha troppato Nel metto in nederite Però pixel C'è tipo C'è anche un item battle Qua c'è la cucina Con un botto di terno al fuoco Avevo troppo della mia spazza Ah è vero Attenzione Morgan Ah ah Stavo lottando Attention Ma c'è un clock Becchio assurdo Sì Ma è impressionante Sono tipo di mini boss questi Ah Cosa è successo Eh sposo tutto Poi spaccano tutto Ma guarda No Morgan Morgan Ma lì Morgan Morgan Vai Vai di tutto il portale Hai troppo poca vita Qua c'è un bel po' di copper Vai indietro Vai indietro Sono fortissimi sti cosi Questo è in full nederite Guarda che non ci muoiono Non ci muoiono Impressionante Cioè qua ne devi killare Più che altro uno a uno Perché se no non la riesci Esatto Ma quelli sono in diamante sono Eh Mi sa che sei pure morto te Tra l'altro Lol Sì No Tieni Morgan C'è la pressa Qui Oh una scena nederite Che io mi prendo Volentieri Niente boy Zio a sto punto Proverai a entrare nel portale Vediamo cosa si cela Di là Se c'è qualcosa Oppure no Non ne ho la più palida idea Quindi proviamo Oh Oddio Ah siamo Praticamente siamo al bordo del mondo E Però nulla Non c'è niente qui Io ero convinto che ci fosse tipo un altro castello Un qualcosa Invece no Ed eccoci qui Niente Allora noi ragazzi poi dobbiamo costruire la base Quindi dateci magari di consigli sotto nei commenti Così poi iniziamo a costruirla Magari in un video oppure in live E quindi niente Da Giacomo Filippo Morgan è tutto Ciao ciao Ciao